Ed ecco Mellish! Anche lui in piena forma. I suoi occhi esprimono forza, determinazione e sicurezza nei suoi mezzi. Sono con lui il massaggiatore e l'allenatore. Ecco l'inizio. Si avvicinano l'uno all'altra cautamente. Fin qui niente di particolare. Ecco, Mellish comincia a lavorarla al corpo. Azione travolgente. Ecco che ormai sono a distanza ravvicinatissima. L'azione si fa più precisa, rapida, ritmica, coordinata. Che accade? Una ferita sull'occhio destro di Mellish. Il medico interviene, esamina il taglio. No, l'incontro non viene sospeso. Devo dire, cari telespettatori, e per voi sarà lo stesso, che non ho mai visto un incontro come questo. Ecco, è finito. È tutto finito. Il matrimonio è stato consumato. Nancy e Fielding Mellish, in senso ora più compiuto, sono marito e moglie. Ora, se sarà possibile, mi farò strada tra i tifosi per parlare ai due. Permesso? Cos'è? Nancy, so che è una domanda molto personale, ma... Salve, Howard. È stato tutto come si aspettava? Howard, è stato così veloce. Io proprio non avevo idea che fosse così rapido. Io mi aspettavo un paio di riprese. Nessuna difficoltà di nessun tipo? Beh, lei lo sa, io soffro tanto il solletico. Poi le difficoltà le ho avute lì, continuavo a ridere, così... Sa, io cominciavo a preoccuparmi, ma mi ero allenata seriamente. Mi è servito perché non c'è stato un momento in cui non ho controllato la situazione. E lei, Fielding, si è preoccupato per quel taglio? Potevano interrompere l'incontro. Lei si è preoccupato? Oh, certo, ho pensato che dovevo finire presto perché l'arbitro poteva fermarmi. A quel punto sapevo di avere la situazione in mano. E speravo che mi lasciassero arrivare in fondo, come ho fatto. E lei, nessuna delusione? Beh, io sapevo che lui sarebbe stato in gran forma e ho sentito che lui non lo era. Sa, manca un po' di mestiere. Sa come... Il tempo, il ritmo, non era... Ma credo che si farà, non è davvero dei peggio, non dei meglio, ma non è dei peggio. E si sente offeso da quello che ha detto ora, Nancy? No, ma che offeso, sono d'accordo con lei. Credevo di essere in gran forma e di metterla alle corde. Quando mi ha toccato al bersaglio grosso, di fiato, ne avevo. Ero ben allenato per questo e io ho dato il cento per cento. Per quando prevede il secondo incontro? Ma credo che potremmo farlo ancora nella tarda primavera. Nella tarda primavera? E io credo che sarò pronto per allora, sai, vorrei... E se ne riparla primavera? È presto? Io direi che potremo lasciarli su questa nota lieta. È difficile dire che cosa potrà accadere in futuro, ma forse vivranno felici e contenti, o forse anche no. Ma siate sicuri di questo. Dovunque abbia luogo l'incontro, noi ci saremo. Telemondo Sporta sarà là per trasmettervelo. Ora, a nome di Nancy e Fildin Mellish e di chi ha reso possibile questa trasmissione, Ower Cosell vi ringrazia per averci seguito e vi augura un piacevole proseguimento. Ower Cosell vi ringrazia per averci seguito